Abrex, il circuito abruzzese di credito commerciale, ha pensato a un bonus per sostenere il turismo della nostra regione. Chi vorrà andare in vacanza il prossimo mese potrà risparmiare fino al 33% della spesa. Ne hanno risposto sei turo per etero sostanzialmente, che sono già iscritti al circuito Abrex, che metteranno a disposizione dei cittadini abruzzesi vacanze, che possono essere vacanze di una settimana ma anche esperienze di un giorno, perché magari potranno andare a cavallo sulla maiella o sulla canoa sul tirino o a fare trekking sul Gran Sasso. Associando questa esperienza magari a un pranzo, la cera, due notti in albergo, in un B&B o in altre strutture, il consumatore che vorrà acquistare questa vacanza prenoterà al tour operator e riceverà un buono del valore del 33% dell'acquisto, della vacanza. Quindi noi paghiamo queste cose, la nostra azienda ha messo un budget a disposizione. Diciamo che abbiamo fatto quello che dovrebbe fare la pubblica amministrazione. Se fossero in molti a voler usufruire di questo bonus, Abrex promette di replicare l'iniziativa, stanziando ulteriori fondi. Il nostro obiettivo è far sì che a giugno questi buoni siano utilizzabili. Perché? Per due motivi. Il primo perché siamo in emergenza, i ristoranti sono aperti e sono vuoti, gli alberghi saranno aperti e saranno vuoti, chi si occupa di turismo avrà i cavalli e non avrà gente sui cavalli. Il secondo obiettivo è quello di stimolare questa domanda locale, perché in questa prima fase non ci sarà possibilità di spostarsi dalle regioni, quindi l'unico bacino di utenza turistico è quello locale. Se questa cosa funzionerà, siamo pronti a replicare il budget allo stanziamento anche per il mese di luglio.